Saranno la Traviata di Verdi e l'Arena Raciti di Montefiore Conca ad alzare il sipario su Montefeltro Festival. Rassegna giunta alla ventunesima edizione, la dodicesima delle quali all'insegna della collaborazione fra l'Accademia Lirica Internazionale di Nova Feltria, Voci del Montefeltro e Riviera Banca. Proprio nell'auditorium riminese della Banca sono stati presentati tre appuntamenti che dopo Montefiore Conca vedranno andare in scena il 16 luglio, le nozze di Figaro di Mozart nella piazza Mercato di Cattolica e il 23 luglio ancora la Traviata di Verdi a Villa Torlogna di San Mauro Pascoli. Sono opere che si prestano molto allo studio che facciamo in Accademia. In Accademia giungono da tutto il mondo, però organizzate in vari gruppi provenienti dagli Stati Uniti, da New York, da Tokyo, dall'Inghilterra, dalla Polonia, ma provengono appunto artisti e studenti da tutto il mondo e quindi queste opere che hanno parecchi personaggi all'interno ci danno l'opportunità di offrire ruoli specifici ad ogni voce. Sono opere che insegnano molto anche agli studenti e anche ai giovani artisti che vengono qui da noi e apprendono anche a pronunciare sempre meglio, tenendo sempre d'occhio lo stile e praticamente tutto quello che attiene al bel canto. Per fare questo abbiamo degli artisti notevoli che dirigono le opere, che fanno anche la regia, quindi aiutano i ragazzi a trasmettere questa tradizione italiana che poi si diffonde nel mondo. I nostri studenti sono più o meno 2.200 nel corso dei 21 anni in cui abbiamo lavorato a Nova Feltria e ogni tanto mi capita di sentire che qualcuno ha fatto una splendida carriera ed è una grandissima soddisfazione che un centro piccolo come Nova Feltria e poi il territorio che lo circonda sia un centro che abbia dato queste opportunità a giovani artisti da tutto il mondo. Le tre date esclusivamente realizzate per Riviera Banca fanno parte di un progetto più ampio di ben 30 date di Montefeltro Festival. Un appuntamento importante perché riguarda un territorio, riguarda una banca, riguarda un insieme di persone che lavorano durante tutto l'anno per organizzare, per dare un servizio, per creare dei vantaggi per la nostra cultura, per sviluppare la cultura. Un certo tipo di cultura basato sulla musica, sul teatro, sull'arte. La banca di credito cooperativo Riviera Banca non poteva essere estranea a queste cose perché è una banca del territorio, è una banca che segue, che è vicino al territorio, che segue qualsiasi iniziativa che tenda alla valorizzazione dei giovani.